Varese Selfie La possibilità per tutti i visitatori della fiera di farsi un bel selfie che immediatamente va sulla pagina Facebook della Varese Sport Commission che come noto è un'iniziativa promossa dalla stessa Camera di Commercio per valorizzare il nostro territorio quale sede di eventi sportivi in grado di attirare turisti e incrementare così la permanenza media sul territorio per l'appunto della fiera. Provincia di Varese. Vare Selfie dunque nello stand della Camera di Commercio alla fiera di Varese. Sono già centinaia coloro che hanno provato a farsi un selfie e invitiamo tutti a farlo. Lo ripetiamo ancora una volta a Vare Selfie allo stand della Camera di Commercio a Fiera Varese. Cambiamo argomento e parliamo di una iniziativa per le inprese. Riprende infatti a pieno ritmo l'attività sull'internazionalizzazione di Camera di Commercio con Provex Consorzio appunto per l'internazionalizzazione. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 13 settembre a Malpensa Fiere quando con l'inizio delle 9.30 si svolgerà un seminario sulla gestione operativa delle operazioni di credito documentario. È un passaggio importante per le imprese che operano appunto all'estero. Lo ripetiamo, l'appuntamento, il seminario a partecipazione gratuita per le imprese Varesine è il del 13 settembre a Malpensa Fiere di Bustosizio. Bene, grazie. È tutto per questa settimana. Grazie.